One touch will make me in love, no thinking, I can't control myself, you know, I'll never get in love Eh, per a tutti ragazzi, benvenuti in questo secondo episodio della Pixelmon... LOL Ok, ho trovato un villaggio, camminando per tipo 65 anni, e sono molto felice, ho XDDD Comunque ci sono diverse novità riguardanti questa piccola serie, una che riguarda la mia skin e un'altra che riguarda proprio la serie Dunque, la mia skin è un attimo cambiata dietro, perché l'ho cambiata? Allora, dato che questo episodio qua lo sto registrando oggi è domenica, quindi sabato notti, ho guardato la parete d'Italia, no? Che ha vinto 2-1 contro l'Inghilterra, grandissima, grandissima vittoria, ok? Quindi, per onorare la mia nazione, io ho deciso di mettermi italiano dietro XDD! Ah, che culetto sexy che c'ho Ok, invece, la novità riguardante la serie è questa Ho deciso di mettere il radar Così, per vedere i Pokémon, per vedere, intanto, se ci sono villaggi E... eccetera E perciò, dato che ho messo questo radar, metterò le difficoltà in Arda, anche se non so se ci sono Pokémon Boh, comunque sì, almeno così ho qualcosa da fare Aspetta, scusate un attimo Ok Ok Ok, perfetto Ora, raccogliamo il grano che ci servirà Adesso che scenderà anche la fame Così, almeno, è proprio un vero survival Ok, andiamo dai villici Tu cosa vuoi? Uno smeraldo Interessante Interessa... Interessevole Quindi, io così ho anche possibilità di mettere i marker, no? Quindi facciamo così Facciamo villaggio Ok, 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 ok A posto Adesso ho messo... Uh, vedete il centro, vedete il centro Pokémon, raga? Questo Scusate, eh Questo qui Perfetto Lol Dove sempre fare così Allora, dato che abbiamo trovato anche un centro Pokémon adesso Cerchiamo di... Ciao, vikans Cerchiamo di depredare sto posto X Ok, ragazzi C'è successo? No, ok Scusate, eh Pensavo fosse stato Skype Wow, che figata Ok, ok Questo Lag Sorry Questo villaggio qua sarà assolutamente da riguardare Ah, ecco perché Ora vado molto più fluido Perfetto Ok Ho già Un po' di fame Ciao, Voltri Ops Allora, cerchiamo la casetta del... Del coso Madonna Il lag Del Fabro se c'è Qua c'è un casino di roba È uno dei villaggi più grandi che abbia mai trovato E non sto scherzando No, qua non c'è niente Scendi Ok, qua c'è di solito il pozzo del cazzo Qua c'è di solito il lag del cazzo Casa del cazzo Casa del cazzo Musica del cazzo Ok Qua andiamo in sta casetta E non c'è niente Ora mi sa che non c'è la casa del Fabro Sfiga Eh, da Mi sa proprio che non c'è la casa del Fabro Ci sono tante casette Ma non c'è la casa del Fabro Ora, capite questo puntino rosso? Questo? Cioè, no, ho svelto qualcosa Cioè Allora Non so se è lava Si è lava Niente, niente scherzo Allora No, allora perché ci sono Vedete tutti i puntini gialli Puntini verdi, eccetera, no? Cioè, un punto Quando ci sono i puntini Di un colore Arancione Più o meno Vuol dire che Cioè, il Pokémon È un tipo di Pokémon Boss Ovvero quello che ci troppa le cose Quando lo uccidiamo Ora io direi Ci sono due centri Pokémon appiccicati Ciao, Electri Io Allora Andiamo subito a curarci il Pokémon Magica Una mela, una mela, una mela Ok Intanto la vedo già Uno dish Che sta facendo il drogato Ora Andiamo di qua Che c'è il centro Pokémon Io odio le giungle Ragazzi, sul serio Oh, centro Pokémon Tu Due Appiccicati Il senso non ce l'ha Però è fantastico Ora L'entrata è di qui Ok Questo centro Pokémon Qua è fantastico Sott'acqua E c'è una torcia Che sta volando Ok I misteri della Pixelmon Curiamoci Il mio amorino Che è morto Ricordo Per cui va di un boulder Del cazzo Oggi Ho detto troppe volte Cazzo Allora Qua sotto cosa c'è? Qua su queste Non le avete mai viste Penso Perché è la prima volta Che entro un centro Pokémon In cover di questa serie Aspettate Se riesco a cliccarci Ok Questa qui Sarebbe per la serie multiplayer Cioè nel senso Ehm Lag Nel senso che È una Una macchina per gli scambi Per chi non lo sapesse Voglio vedere Quel centro Pokémon di là Come è messo È molto carino È molto scarucciolo Altra mela Ok Allora La mod Ho messo Madonna Mi ragazzi Sto lag Hihi Beh è come quello di prima Cioè è come quell'altro Solo che Non riesco ad entrarci No È come quell'altro Solo che è molto più lungo E c'è un Prime Per dentro La confronto a quell'altro Sotto C'è Sempre la solita cosa Sempre il solito lag Ma porca miseria Quanto mi sta laggando oggi Il computer ragazzi Scusate sul serio Allora ora che ci siamo curati Charmander Io direi di livellarlo Un pochino Quindi ragazzi Scusate se No Magari contro lui no Quindi scusate se Sarà una Un episodio abbastanza Mosho Perché devo Devolire Il mio Charmander Per almeno farlo Combattere bene E incominciare A indebolire Perché è gente Pokémon per catturarli Allora Andiamo come sempre Dai Magikarp Che sperando che non mi ammazzini Come l'altra volta Mamma mia Passa sto lagg Non capisco perché Mi stia laggando In questo modo So splashy Ok Graffia Oddio Azione Oh cazzo Ok finché Usa splashy Sono a posto Però non deve più Usare azione Se no È un casino Ok ho usato splashy Io uso ancora graffio Io uso ancora splashy Io uso graffio Oddio Ho usato azione Ha riusato azione Uso Sfrutto Non sfrutto un cazzo Perché me l'ha ucciso Ma porca Di quella Dico cosa Lol Mi si è alzato Allora Carote alla mano Ok Magari andare contro un Magikarp Che non sa più azione Mi agevolerebbe il lavoro Io entro dal tetto Ragazzi Cazzo Cazzo Ma che sfiga c'ho Allora Perfetto Entriamo Dall'acqua Paraforza Ora Magari Se riuscissi a Ah non posso neanche premere Esc Ok Se riuscissi a Vediamo se vai meglio Così No Va peggio di prima Cioè Che cavolo Vabbè Tanto c'ho la minimappa Quindi i pokemon li vedo Anche se non vedo davanti Che A che livello stai Oh Nove Sei stra Abbordabile Guarda Ti spaccolano Forza Charmy Vai Charmander Mi sono sott'acqua Sta morendo Cazzo Ok Splash Dovrei salire di livello adesso In teoria Appena lo ammazzo Sì Livello 8 A 13 Tu non sei ancora Azione In teoria E se Saggia azione Lo prendo nel culo Ok L'ho attaccato No ok Non sa usare azione Perché se no L'avevo già usato Charmander Charmander Eh Dunque Tanto che siamo soli In questo mondo Io direi che Come prima cosa Faccia Una casetta Una casetta Per fare Subito Il Il Un Lettuzzolo E E boh E farci una base Devo mettere giù le nostre cose Senza avere sempre 500 robe Nell'inventario Quindi Quindi facciamo livellare un po' Questo Cuccioletto Vabbè Ho capito che ci metterò gli anni Quindi ragazzi Farò Livellare Charmander Fino al Al 16 E Riprenderò La La registrazione Quando si evolverà A dopo Ok È salito al 16 E Ok Dovebbe Evolversi E non Ok ok Si sta muovendo Sta brillando È una cosa fantastica Oh mio dio I'm excited Quanto grande potrei essere Non vedo un cazzo Terra di me Beh È grandicella Devo dire Cioè Mi piegli per il culo Eri più grande prima Ora Finalmente Che Ha acquistato Un potto di potenza Diventando Un fottutissimo Charmeleon Dovrebbe essere In grado di No Magari no Avevo visto Ancora Un inferno Qui da qualche parte Facciamo Miltank Facciamo il culo Al Miltank Al Miltank 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 Boom Scratch Ah non è morto What Al Dragon Rage Yes Ora lo posso Sfruttare Ah Peccato Ok Ora io direi Di farci Intanto di respirare Magari Di farci Una piccozza Una cetta in Feo Per farci Che noi raccogliamo Il legno Per farci La casetta Ok Infatti Questo è Questo qua Allora siamo Dieci minuti Quasi undici Più o meno C'è quasi dodici O treci Dipende Non lo so E quindi Sto però Il video Quando Ho finito Quando Credo Di aver raccolto Abbastanza Legna Ok Ok Ho One shot I pokemon Finalmente Ok Lì c'è un dodrio E manco ci provo Lì c'è un nidorin male E nemmeno ci provo Devo trovare Ma io ci potrei provare Ma contro di seno Allora io vorrei Andare a trovare Quei C'è un Nellekid Mi ha sfidato Vedi dragon rage Bestia Thundershock Critical hit Dragon rage Bam 18 C'è un kangaskan Diciamo Raticate E ho fame Allora I miei alberelli C'è un fleffy I miei alberelli E sono Di qui Gli alberi che Vacca un rapidash Che bello Mi sono sempre Tutti i rapidash Ho avuto Ho sempre Ho avuto un debole Per i rapidash Mi piacciono tantissime Come pokemon Come cavalli Ora Teniamo su tutta sta legna Dovrei prendere Più o meno Uno stack Di grezzo Per far su La casetta Che voglio io E non solo Grezzo Mi servirebbe anche Un legno Tipo spruce Ma Dato che Non c'è La Taiga Come bioma Qua vicino Almeno Non ho ancora visto Mi sa che Mi accontenterò Del legno Della Come si chiama Del regno Cosa cazzo Lì sto Cos'è cosa cazzo Una foc di caramella rara Ok Ho allenato un pokemon Ora Mantieni a prendere sta cazzo Di Legna Allora Prima ho visto un paio Di pokemon boss Da qualche parte Nella minimappa Intanto ragazzi Però adesso non sapete Dove sono finiti Erano tipo qua Da qualche parte Ah Una cosa che voi non sapete Ma che io so È che Possono spannare anche I pokemon Leggendari In qualche bioma Ogni tanto Eh si Dovremmo faticare Moltissimo Per catturarne uno Ci ho già provato In un mondo Che avevo fatto io E vi assicuro Che è una cosa Difficilissima Perché ti escono Sempre La cosa più facile Che tu possa fare Sono le pokeball Però le pokeball Non sono per niente Efficaci Contro questi Leggendari Tu Alenatore Hai usato Guardarmi negli occhi E adesso Perirai Sotto la potenza Del mio Charmeleon One-Shotted One-Shotted E poi One-Shotted E One-Shotted Ok That's the perfect Ora Continuiamo a prendere legno C'è intanto un Ekans Che ha Ha usato Un po' di ashes Dragonrage Fuori Monkey One-Shotted Fatto Qua c'è uno Snorlax Al 18.000 Sicuramente Al 46 Ragazzi Uh La linea bianca Potrei usare Al posto Dello Spruce Wood Che è bellissimo Come legno Legno bianco Ok Presa Questo L'ho qua Troppo lungo Mi pare Giusto È uno Quello Che si tirama Sì E non ho pali Di tirarti giù Tutto ragazzo Ora Giù 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 Ok Ho trovato Delle No Non ho trovato Ancora Delle Ghiocche Quindi Dovrò fare Una mini Spedizione Per Delle Ghiocche C'è un Clown Ora A quanto Sono arrivato 64 Di Ok E 6 Di Birch Quindi Potrei Incominciare A fare Le mie Fondamenta Ma Assolutamente Non so Dove Uh Birch 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 Sped Spazio Un attimo Qui c'è Lava Sì C'è Lava C'è Un Miao C'è Un Metapod Dove sono I Metapod Ok Un po' Di Birch Non fa male A mai Nessuno Ora Tu morirai Perché Voglio Io che No Cazzo Mi sta Strasimpli No È troppo Forte Tu Non ti ho preso Vediamo di fare parkour Per venirti a prendere Le diva di merda Le diva di merda Che cazzo Mi prendi per il culo Oh L'ho preso Oddio in che senso L'ho preso No 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 Magari La cetta Mi servirebbe Guarda Tiri su Per cortesia Teng Ora Altro Altro birch E poi ho finito E poi andiamo a cercarci Un bel posto Dove costruire casa Ma allora Qua vicino Sarebbe perfetto Devo dire Qui Assolutamente Sì Qua Qua costruire Il legno di mora Ora Incominciamo Con far diventare Questo Legno lavorato E Facciamo Così Allora Facciamo una cosa Del tipo Lo Cosa sto facendo Quanto è? Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Facciamo Uno Due Tre E di qua 16 Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto No Dieci Unice Dove Tre Quattro 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 Ho Ho sbagliato Ok Questo 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 Ora Tu saresti Uno Due Uno Due Tre Apposto Quindi La prima parte Di casa L'ho fatta Ora Dove Vedo La terra E Col Quattro Tappiamo Questo Bucchetto Leviamo Un po' Di Foglioline Mettiamo Un po' Di Torce Facciamo Così Facciamo Che Cazzo Ok Uno Due Uno Due Uno Uno Due Ok Ora qua Uno Due Uno Due Uno No Ho sbagliato Uno E due Bello Mi piace Così Allora Ok E Altre Torce 32 Torce Quindi Ragazzi Più o meno Allora La casa La finiranno Off camera Perché Mi rendo Conto Che è Noioso Vedere Costruire Una Casa E Quindi Io Per questo Episodio Io vi saluto E vi ricordo Di lasciare Like Commentare E soprattutto Iscrivervi E Niente Per tutti Alla prossima